Nessuna risposta preta portè, precostituita, ma concreta e personale. Incontrando i giovani della missione diocesana al santuario della Madonna della Guardia, Papa Francesco ha chiesto agli oltre 2700 presenti di non essere ipocreti, semplici turisti della vita, ma di fare compromessi con l'esistenza, di scrutare i cuori delle persone, di accogliere l'invito di Gesù, l'unico capace di renderci gioiosi. Essere in missione, ha insistito il Pontefice, vuol dire imparare a guardare la realtà con occhi nuovi, vuol dire imparare ad amare davvero, soccorrere, soprattutto nelle situazioni di degrado, riconoscendo negli ultimi il volto di Gesù. Bisogna essere testardi nella speranza, abbracciando la pazzia della fede, perché il Figlio di Dio è sempre con noi, anche quando siamo in gravi situazioni di peccato. In una società dove troppo spesso si usano gli aggettivi per giudicare le persone, la raccomandazione di Papa Bergoglio è stata di imparare a riconoscere i nomi, le persone, con tutto il loro bagaglio di dolori e attese, amando tutti. Per essere un vero discepolo e missionario, aggiunto, ci vuole lo stesso cuore del navigatore, orizzonte e coraggio, coraggio specialmente di andare controcorrente, di risolvere quelle situazioni che non sono normali, come il dramma dei migranti. L'appuntamento al Santuario della Guardia si è concluso nella sala del caminetto, dove il Pontefice ha pranzato con circa 120 persone, tra poveri, rifugiati, senza fissa dimora e detenuti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.